E Roma era pronta per Stand Up e Gospel Revolution. Il teatro olimpico fino a domenica verrà fisicamente riempito dalla corpulenza artistica dei C.C. Rogers e dall'agilità, non solo canora, della quarantina di cantanti e danzatori che lo accompagnano diretti dal regista Salvatore Vivinetto. La rivoluzione sta nel fatto che in questo spettacolo il Gospel sia propria della cultura metropolitana, che l'hip-hop arriva in teatro insieme alla breakdance. Insomma, se la vostra idea di Gospel era tutta cori e chiesa, cambierete idea. L'onda di Obama rende il nero di moda un po' ovunque e dopo Milano e Torino è la capitale ad approfittare della lezione di ritmo. C.C. Rogers, l'artefice della rivoluzione musical danzante, vanta amicizie e collaborazioni con tipetti come James Brown, Aretha Franklin, Janet Jackson e Duran Duran. Il risultato è che l'energia tracima dal palco e inonda la sala e ci si ritrova protagonisti di un Blues Brothers romano, senza avere capito come sia successo. S.C. Rogers, la sua moglie di rivoluzione Grazie a tutti.